eh aveva fame vedi per il video l'ha finito una donna che siete che aveva bene bene sono felice che mangia eh sì avevo proprio fame avete i numeri di quei avete i numeri di quel di quel negozio di Sant'Alcanzo grande grande dove vengono le cose sì lo poniamo se sanno quell'altro là ok a lui ci dà fastidio però Giovanni tuoi ilo tuoi ilo tuoi